Benvenuti nella contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euro-atlantisti. Qui protest a chi giova l'attacco terroristico di Mosca. Secondo il presidente russo Putin, come detto ieri dal giornalista Pavel Zarubin su Rassia ad in canale televisivo pubblico, negli interessi del regime neonazista di Kiev, così lo chiama Putin, cioè quello di Zelensky e Shmihal. L'attacco quindi di venerdì scorso, se non ricordo male, al Crocus City Hall, sala concerti, centro commerciale a nord, in un soborgo a nord di Mosca, sarebbe stato, secondo Putin, un tentativo ucraino di far impaurire, spaventare la Russia e il popolo russo, riferirlo proprio Vladimir Putin, ieri lunedì 25 marzo 2024. Un attacco, quello alla sala concerti, un anello nella lunga serie catena degli attacchi che vanno avanti dal 2014 da Euromaidan in poi contro la Russia, secondo Putin, e quindi i neonazisti sono solo le mani che vengono usate dai veri mandanti che stanno dietro, cioè dai sostenitori di Kiev e di quel tipo di governo. Si parla, Putin parla apertamente anche di ISIS-K, quindi la branca afghana e l'ISIS dei quattro taggichi accusati e catturati o uccisi dall'FSB russa. Per Putin, Putin definisce islamisti radicali. La domanda, dice il presidente russo, è perché fuggivano verso l'Ucraina. Sapete che l'FSB, quindi i servizi di sicurezza russi, hanno permesso ai quattro, nella famosa Renault Bianca, di percorrere circa 300 chilometri dalla capitale russa fino alla zona di Bryansk, verso i confini dell'Ucraina del 91, la zona di Sumy, apposta per capire qual era la direzione e chi magari li stava aspettando dall'altra parte, quella è un'altra domanda. Infatti Putin cosa dice? Chi li stava aspettando, chi stava aspettando i quattro taggichi dall'altra parte del confine in Ucraina a Sumy e dintorni? E' chiaro, dice il presidente del Cremlino, che sono stati, dietro ci sono quelli che sostengono il regime di Kiev e non vogliono però essere direttamente corresponsabili, complici e sostenitori del terrorismo, di azioni terroristiche contro i cili di queste atrocità come quelle di Mosca di venerdì scorso. La Russia sa, dice Putin, chi ha sparato, chi ha premuto il grilletto, ma bisogna trovare da Mosca chi ha dato l'ordine di compiere quella bestialità costata la vita a quasi 140 persone in bilancio provvisorio di stamattina, 26 marzo, di martedì mattina. Kiev è il primo, assolutamente la prima sospettata per Mosca, conferma Putin. Perché? Perché mentre nei vari fronti di guerra dell'Ucraina del 91, del sud e dell'est stanno in una situazione di sconfitta sostanzialmente, stanno perdendo, allora le autorità di Kiev cercherebbero, secondo Putin, di fare delle azioni di terra limitate, importanti dal punto di vista delle pierne del mediatico, quindi le pubbliche relazioni in media occidentali di incursione nelle zone di confine della Russia, il 91 uccidendo civili a Bielgrad, per esempio, e sparando missili, affondando navi della flotta del Mar Nero russa in Crimea, colpendo il ponte dello stretto di Kerch. Tutto questo, quindi, secondo il presidente russo, chiude, fa parte di una lunga serie di attacchi terroristici contro anche civili russi, contro la Russia, per cui l'obiettivo sarebbe quello di far spaventare il paese, il popolo russo e innalzare il morale a terra del popolo ucraino affinché gli ucraini continuino a sostenere e gli yes continui agli ordini di Washington per proseguire la guerra, quindi morte, 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 miliardi di dollari da guadagnare dalla parte delle aziende, per esempio produttrici di armi americani, grandi fondi di investimento come BlackRock o Vanguard. Ci sono delle voci che seguono quelle di Putin anche negli Stati Uniti d'America, da chi è accusato di essere pupazzo di Putin, pagato da Putin, lo sappiamo. Per esempio Douglas MacGregor, ex consigliere al Pentagono del Dipartimento di Difesa americano su Twitter, chi è stato dietro, i perpetratori, cioè i terroristi che hanno portato avanti fisicamente l'attacco a Mosca, potrebbero essere direttamente, sono anzi direttamente coinvolti con elementi musulmani che combattono dalla parte di Kiev nella guerra contro Mosca e nell'Ucraina in 91 i vari fronti di guerra, in questa guerra terribile di massa e simmetrica. Quindi secondo MacGregor ci sarebbero dei dubbi sul coinvolgimento anche diretto in questo attentato dell'MI-6 inglese della CIA americana. Più o meno nello stesso avviso ha anche David Sachs, importante imprenditore americano che discute spesso su X con Elon Musk, importante nella sfera pubblica americana. Il governo ucraino, scrive, potrebbe essere dietro all'attentato di Mosca. Ci sono possibilità sempre più importanti, sempre più probabili e sotto il cosiddetto community notes, cioè le correzioni di X, poi portano le responsabilità, riportano le rivendicazioni molteplici dell'Isis Khorasan per aver ucciso appunto quasi 140 persone, circa 140 persone nell'attentato di Mosca. E guardate le fonti più in basso, per esempio il Guardian, la CNN, che più e più volte hanno diffuso, lo dico per esperienza diretta, bugie e falsità assolute sull'Ungheria di Orban. Viktor, per esempio, sotto il coronavirus, la chiusura del Parlamento ungherese. Lasciamo perdere. Stati Uniti d'America intanto dicono di non voler assolutamente collaborare da qui al prossimo futuro con la Russia nelle azioni e passaggi di informazioni necessarie alla lotta al terrorismo internazionale. Parole molto importanti e pesanti. Ieri, lunedì, il portavoce della Casa Bianca, John Kirby. Fanno il paio con le testimonianze, le parole di qualche ora prima del portavoce del Ministero degli Esteri Americano di Anthony Blinken, Matthew Miller, che ha ricordato anche come ci sia stato un avvertimento americano il 7 marzo scorso al governo, alla presidenza russa, al Cremlino, per possibili attentati a Mosca. Guardate caso, tutto è successo però non entro 48 ore come d'avvertimento americano, quindi non a inizio marzo, ma subito dopo le elezioni in Russia che hanno confermato Putin con tutte le controversie e le polemiche da parte occidentale. Incredibile, commenta Voddo Itasio, il giornale conservatore Maggiaro, che è diventato anche una fonte, come ho visto, del Corriere della Sera. Il blog di Soros in Ungheria, ma anche tutti i vari media neoliberali legati alla società aperta di Soros, se preferiti, e Soros Gerd, stanno simpatizzando in un certo senso almeno implicitamente con i terroristi accusati, 4 taggichi, 2 uccisi, 2 ancora vivi ma malmessi, per esempio in Ungheria, 444.hu, sito di informazione, in Italia Affington Post, Corriere, Tg.com, tutti gli altri principali media italiani, raccontano, potete vedere le foto abbastanza forti dello Stato. In Italia si parla anche, mettono in gioco anche dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, diritti quindi dei carcerati, degli accusati, dare una seconda possibilità, eccetera, anche ai terroristi, quindi i diritti inalienabili della persona. Accusati in Russia, le FSP non hanno un trattamento molto morbido contro questi terroristi, che sono stati torturati, sono stati brutalmente menati, botte sul viso, con fiori, per quanto riguarda un orecchio anche tagliato e fatto mangiare secondo un video, riportato anche a Reuters, Reuters che parla anche di un occhio addirittura perso, esploso, di uno degli accusati, taggichi, addirittura scariche da 80 volte elettriche sulle dita e sugli organi genitali di uno degli accusati. Immagini che avete visto sicuramente già. Nel mentre l'Occidente non si preoccupa ovviamente dei diritti delle persone che vengono magari malmenate, portate con la forza, un addestramento breve poi in guerra, mobilitazione forzata, le razzie dell'esercito ucraino e della polizia ucraina contro i mobilitati. Per esempio in Transcarpazia, tutto censurato in Italia, Oblast dell'Ovest, una forte minoranza ungherese, nella zona di Munkach, non ungherese, della città, le persone che non ne possono più, donne, bambini e anziani, coloro che non sono quindi in guerra feriti o fuggiti, o in guerra che combattono i vari fronti, hanno bloccato le strade il 25 marzo proprio, quindi ieri. Hanno sfruttato la legge bloccando le strade dai passaggi pedonali in maniera a non dare poi modo alla polizia di fermare l'azione di blocco del traffico. La polizia è comunque intervenuta. La mobilitazione dice una, gli organizzatori in un comunicato, questi metodi di Zelensky, Shmiel terroristi e da banditi di mobilitare per strada le persone anche con la forza e portarle via e quindi rapirle, sono metodi inaccettabili e tutto questo porterà al caos in Ucraina, minare l'unità nazionale. Un alto generale ucraino, il capo delle forze di terra, Oleksandr Pavlyuk, delle AFU di Kiev, ha detto che chi critica la mobilitazione anche forzata, lavora per i russi, cioè sostanzialmente è un traditore della patria. Parole di Pavlyuk di domenica scorsa, due giorni fa, e ha respinto tutte quelle dichiarazioni anche mediatiche in Ucraina per cui le decine di morti di uomini che hanno cercato di fuggire alla mobilitazione sono affogati nel Tibiscona, ti so, un fiume al confine con la Romania e l'Ungheria, la parte dell'Ovest dell'Ucraina, non sarebbero quindi delle povere persone vittime, sono dei traditori dei vigliacchi, cioè lo sono stati perché non ci sono più. E queste dichiarazioni potrebbero diventare, secondo il generale ucraino, che ha sostituito Sirsky, che è diventato capo di stato maggiore, un'arma veramente forte nelle mani dei nemici russi, della Russia di Putin. L'ambasciatore russo intanto, nonostante la convocazione al Ministero degli Esteri di Varsavia in Polonia, non è voluto andare. Sergei Andreev a Ria Novosti per quanto riguarda le spiegazioni, discutere diplomaticamente di quello che è successo col missile russo che avrebbe violato lo spazio aereo polacco NATO per 39 secondi circa. Dice lui, l'ambasciatore russo, non ha senso discutere con le autorità di Varsavia senza delle prove mostrate all'esercito dell'aviazione polacca. Infatti la Russia dice di voler anche delle prove per quanto riguarda l'incidente precedente del 29 dicembre 2023 in cui un presunto missile russo da crociera avrebbe violato il spazio aereo polacco come l'altro giorno, un nuovo episodio secondo le accuse polacche. Non ci sono però, secondo la prospettiva russa, delle prove. Dice lui e chiude l'ambasciatore di Mosca a Varsavia. Aspetto ai miei colleghi polacchi della diplomazia polacca delle lettere, mandatele via posta o via fattorino con le prove, con tutte le liste e tutti i dati oggettivi di questa invasione dello spazio aereo nazionale. L'ufficio sicurezza nazionale polacco, intanto come dice a viscere la 24 ucrainista su X, profilo polacco, avvisa la NATO, la NATO dovrebbe cambiare, abbattere fisicamente tutti i missili e i droni, l'uomo che vedete lo dice, che entrano nello spazio aereo e cadono anche nel suolo dell'Alleanza Nordatlantica. Macron per essere il favorito in Unione Europea, in Europa, dalla parte dei Stati Uniti d'America, che guidano proprio la NATO, fa delle dichiarazioni roboanti apposta che dividono gli alleati europei. Dice Serghei Lavrov, ministro degli esteri russo, sulla base delle parole del presidente dell'Eliseo che ha più volte parlato dell'idea di discutere l'invio di soldati NATO in Ucraina. Tutto questo secondo Lavrov minerebbe poi le relazioni, la famosa rivalità storica Francia-Germania, della quisgrana chiamiamola così, per sostanzialmente umiliare e indebolire la posizione tedesca di Scholz all'interno dell'Unione Europea. Quindi una spiegazione possibile delle dinamiche europee secondo la prospettiva di Mosca. Per quanto riguarda un messaggio curioso, fotomontaggio di Macron vestito con una specie di pigia minorosa. Toro Scarlas, l'opposizione a destra di Orban in Ungheria, dice Macron è pronto per la terza guerra mondiale, scrive in inglese, poche volte ha scritto in inglese. Ha iniziato a fare pugilato, la famosa foto, adesso all'età di 46 anni. È meglio come banchiere ai rocci piuttosto che come pugile. Dovremmo mandarlo al fronte a combattere in Ucraina e non permettere a Macron di trascinarci, trascinare l'Europa in guerra. Il vicepresidente del Parlamento di Bratislava, del governo Robert Fizzo, quindi in Slovacchia, ha criticato Charles Michel pesantemente. Lui si chiama Lubos Blaha e ha parlato di pazzia russofoba del presidente del Consiglio Europeo Belga popolare Charles Michel per quanto riguarda il nuovo. Due, in realtà due esortazioni del Belga a un'Europa, a far entrare l'Europa in un'economia di guerra, a prepararsi al conflitto diretto contro la Russia e anche gli altri potenziali alleati come Pechino. A scrivere il politico vicepresidente della Camera di Bratislava su Telegram per quanto riguarda l'economia di guerra ha chiesto a Charles Michel se è diventato pazzo sostanzialmente. Una mentalità, quella di Michel da Mussolini, l'odio verso la Russia di questi europei politici li acceca del tutto e adesso iniziano anche a comprare nel mercato mondiale munizioni e artiglieria pesante da dare a chi è per uccidere i russi. Tanto più sangue, tanto più migliora la situazione per loro, i profitti. Noi come governo slovacco dice sempre da Bratislava il politico non continueremo a non mandare armi all'Ucraina come faceva invece il governo presente sulla scia di quello che è la linea per esempio di Orban Victor in Ungheria rispetto alla questione ucraina. Tutti adesso criticano pesantemente e deridono Putin perché per le elezioni non libere in Russia ma almeno ci sono state in Russia dice lo slovacco. Zelensky invece come dittatore continua a governare senza nuove elezioni, il suo mandato scade a fine maggio ricordiamolo in Ucraina. Putin ha dalla sua parte la maggior parte del popolo russo sicuramente anche secondo i sondaggi occidentali, mentre i guerra fondai di Bruxelles, Kiev e Washington non hanno tale sostegno popolare e sarebbero gelosi. Chiude il messaggio su Telegram. Criminali, omicidi, tornate a casa. I comunisti greci hanno fermato un convoglio ferroviario un treno carico di mezzi, veicoli, blindati, militari, cingolati, in viaggio verso la Bulgaria secondo fonti stampa locali greche. Siamo nel porto di Alexandrupolis, credo nel nord della Grecia. Un convoglio americano fermato e costretto a tornare indietro. Cosa hanno detto gli attivisti carri armati rossi che vedete anche in questo fotogramma dove scrivono con una bomboletta di vernice rossa killer su questi carri armati leggeri. Alexandropoli è un porto del popolo, non è il porto, la casetta, il castello, il piccolo castello degli imperialisti americani. Queste cose vengono censurate. Questo qui sta il mio focus dove bisogna vedere. Chiedetevi sempre perché vi mostrano delle cose in media allineate e perché non vi mostrano certe altre cose. Non favorevole magari un'agenda politica ideologica. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Mario Orsaga.